Sarà un caso che hai aperto delle date di Fedez e Briga? Ma in realtà non è un caso, cioè sembra anche un po' il giusto intreccio tra i due artisti Non lo so, magari sai cosa? Dai singoli si può dire questo Poi se invece vai a ascoltare un po' nel profondo capisci che magari magari a Briga qualcosina appunto sul fronte love, capito? Possiamo dire che possiamo avvicinarci Poi a Fedez ti ripeto Fedez magari è un artista che non segui tantissimo Capito, quindi non saprei neanche dirti sì è vero Però magari su Fedez c'è un po' quella caratteristica che un po' hai anche tu nei ritornelli di quella musicalità Ok, sì sì può essere Hip Hop TV solo su Sky, canale 720